Marco Meacci. Buongiorno, sarò brevissimo e fa molto piacere che anche quest'anno Area Dem sia a Cortona, sia nella provincia di Arezzo. È un rapporto a cui teniamo molto. Fin dall'inizio abbiamo in qualche modo accompagnato queste iniziative. Credo che queste iniziative in chiave anche pubblica e di livello così alto siano un contributo importante al PD, alla vita del PD, ma soprattutto alla vita di questo Paese. Saluto molto Marina, Dario Franceschini. Ricordo fra l'altro che Dario è stato sempre molto presente anche nel nostro territorio, nelle battaglie e anche nelle elezioni comunali. Qui c'è il sindaco di Arezzo. Dario venne a chiudere con noi la campagna elettorale ad Arezzo Città, dove abbiamo confermato al primo turno, con un grande successo anche del Partito Democratico, l'amministrazione comunale. La nostra provincia è una provincia dove il PD, il centro-sinistra, ma fondamentalmente il PD, governa il 91% della popolazione. Di fatto è il partito su cui si è riversata la fiducia in questi anni. Io ieri sera, cito solo questo, ero in un'assemblea, in una festa, anzi, del PD di Bucine, in Val D'Arno, aperta chiaramente a tutti, e ho sentito il grande disagio, il grande malcontento, malessere, che i nostri militanti, i nostri iscritti hanno per questo momento della vita politica e anche del nostro partito. Io segnalo solo questo, che i nostri elettori, i nostri militanti, i nostri cittadini ci guardano con grande attenzione, misurano ogni gesto che viene compiuto, non è più come una volta che si dava fiducia, misurano e hanno misurato varie cose che sono successe anche in questi ultimi mesi. Lo shock della vicenda del Presidente della Repubblica è stato uno shock per il nostro partito, a tutti i livelli, i nostri circoli si sono proprio fermati rispetto a quella vicenda e a quel fatto. Io sottolino che appunto l'insieme del nostro elettorato guarda con grande preoccupazione a quello che sta avvenendo, attende scelte chiare, scelte coraggiose, coerenti anche con il progetto del Partito Democratico e ci chiede di rimettere al centro quelle che sono le sofferenze delle persone. In provincia di Arezzo ci sono 50.000 iscritti ai centri per l'impiego, 50.000 persone su una popolazione e 340.000 abitanti. Ci sono famiglie disperate e non è d'emagogia e credo che la politica debba rimettere al centro prima di tutto come far ripartire questo Paese. E io mi auguro che dentro questo congresso che va a iniziare il punto numero uno su come far ripartire questo Paese, quale prospettive dare, quale idea di sviluppo dare, quale risposte diamo a quei milioni di persone che ancora con preoccupazione e disorientamento però guardano al Partito Democratico. Sono sicuro che anche da questi due giorni verrà un contributo importante non solo e non tanto per il PD ma per il futuro di questo Paese. Grazie e buon lavoro.